Perché il passo stampa è un fattore fondamentale per una bobina stampata di alta qualità? Una delle maggiori sfide nel processo di stampa di una bobina è garantire un passo stampa costante. Questo fa sì che ogni immagine stampata sia equidistante dall'altra, fattore fondamentale durante il processo di converting. Il problema è molto sentito soprattutto nel settore igienico in quanto i materiali utilizzati dalle grammature molto basse risultano estremamente sensibili a fattori come tensione e temperatura. Per un passo stampa costante sono necessari un corretto e costante tensionamento del materiale prima, durante e dopo il processo di stampa, la stabilità strutturale della macchina che è risultato di un equilibrio tra tutte le sue parti elettroniche e meccaniche e una corretta temperatura dell'aria durante la fase di asciugatura dell'inchiostro. La linea Acelli Ridium è nata proprio per soddisfare questi requisiti in modo a garantirti un passo stampa costante per le tue bobine dedicate al settore igienico sanitario.